Bentornati alle colonne d'Ercole, storie, aneddoti, veri miti e false leggende del mondo delle colonne sonore. Allora, la volta scorsa, le due volte scorse in realtà, abbiamo iniziato quel viaggio che ho chiamato gli anni folli di Ennio Morricone, cioè quegli anni che vanno dal 1965 al 1972 che sono stati veramente di magmatico fermento e fondamentali per la crescita artistica di Ennio Morricone e anche per la sua fama, prima nazionale e poi internazionale. Oggi mettiamo insieme due anni, il 1967 e il 1968, che sono stati due anni tutto sommato abbastanza simili per la tipologia di lavoro che è stato fatto, per il numero di colonne sonore che nei due anni sono 34 cioè pensate cosa vuol dire fare 34 colonne sonore in 24 mesi e comunque non sarà il record il record lo vedremo tra qualche puntata, vedremo l'anno veramente più incredibile della carriera di Ennio Morricone tra qualche puntata. Oggi invece facciamo una velocissima carrellata su queste 34 colonne sonore su questi 34 film per poi soffermarci su una veramente famosissima. Partiamo subito con la nostra carrellata. I Crudeli, regia di Sergio Corbucci, poi Sette donne prima e Gregor, regia di Franco Giraldi che ricorda naturalmente Sette pistole prima e Gregor che abbiamo visto nella scorsa puntata e la resa dei conti, regia di Sergio Sollima. Allora qui abbiamo già tre western pronti via tre western fatti nel giro di poche settimane e ringrazio l'amico Claudio Balletti per la sagnazione del fatto che vi ricordate che abbiamo visto la volta scorsa che in molte colonne sonore Ennio Morricone non esce con il suo nome ovviamente di battesimo ma esce con lo pseudonimo di Leo Nichols. Questo per due ragioni, sia per dare a certi film come dire una maggiore appetibilità internazionale con dei nomi che spesso anche gli attori cambiavano dal proprio nome italiano in un nome che suonasse un po' americano o americaneggiante o comunque afferente al mondo anglosassone. Ma la ragione era anche che Ennio Morricone aveva un po' paura di restare un po' troppo catalogato come il compositore dei western ne ha fatti tantissimi naturalmente e in certi casi temeva che questa cosa potesse in qualche maniera confinarlo e ridurre la sua figura di compositore esclusivamente a questo genere e forse anche per questo ha sempre spaziato tra tanti generi così diversi come abbiamo visto e come vedremo quindi commedie, film di spionaggio, film drammatici, documentari, western, film comici insomma veramente ogni tipologia di film è Ennio Morricone la musicata. Andiamo avanti, Matchless, regia di Alberto Lattuada. Su questo film due parole dobbiamo dire perché è la prima volta per quanto ne so io che la colonna sonora viene divisa cioè risulta sia nome di Ennio Morricone che di Gino Marinuzzi. Cosa abbastanza strana per quanto conosco io Ennio Morricone. È successo altre volte, insomma vedremo nel corso della puntata di oggi che anche altre musiche sono state divise. Però diciamo che mediamente non faceva parte proprio del suo modo di intendere la musica. In questo caso invece le musiche vengono divise con Gino Marinuzzi anche se come dire l'apporto di Marinuzzi è più legato a una parte di musica elettronica mentre il suo ovviamente è quello della score più tradizionale. E a proposito di dividere i credits vediamo il prossimo film Ok Connery, regia di Alberto De Martino. Beh allora due parole sul film ve le dico innanzitutto. È un film di spionaggio che ha la particolarità di raccogliere degli attori che avevano lavorato nei film di James Bond di 007. Siamo negli anni in cui si era già arrivati al quinto capitolo della saga. E tra l'altro vi invito ad andare a vedere la puntata che abbiamo fatto sul James Bond theme. La trovate sulla pagina Facebook e naturalmente sul canale YouTube. Quindi in questo film Ok Connery il protagonista è Neil Connery, fratello leggermente meno famoso di tale Sean Connery. Qui li vediamo insieme una foto anche abbastanza recente, insomma il film naturalmente è di parecchi anni prima. Neil Connery che ha avuto appunto una sua carriera d'attore ovviamente, insomma, non c'è bisogno di dirlo, non è mai stata paragonabile alla carriera che ha fatto il fratello. Ma la vera particolarità che più ci interessa, al di là delle parentele più o meno famose è il fatto che in questa colonna sonora i compositori risultano essere Ennio Morricone e Bruno Nicolai che abbiamo visto la volta scorsa essere stato il direttore orchestra delle prime cento colonne sonore di Ennio Morricone indicativamente, 10 più 10 meno. Io non so esattamente come funzionasse questo tipo di collaborazione. Di sicuro per come conosco io Ennio Morricone mi sembra improbabile che lavorassero a quattro mani, è più probabile invece che si dividessero alcune scene uno e alcune scene l'altro. Ma sta di fatto questo non sarà l'unico caso in cui Ennio Morricone dividerà i credits con un altro compositore. Andiamo avanti. Il giardino delle delizie, regia di Silvano Agosti. La ragazza e il generale, con la regia di Pasquale Festa Campanile. L'avventuriero, regia di Terence Young. E qui inizia, non è la prima volta che succede, ma inizia una collaborazione con un regista internazionale, Terence Young, che era stato tra l'altro il regista di alcuni dei primi episodi di James Bond, a proposito di James Bond di cui abbiamo parlato prima. E quindi è, come dire, una delle prime collaborazioni, ancorché con una produzione ancora italiana, ma con un regista internazionale. Particolarità di questo film è che il suo assistente era Franco Michalizzi, che nel 1967 era ancora abbastanza in luce e sconosciuto, ma che di lì a pochissimi anni si era diventato molto famoso per avere composto la corona sonora di lo chiamavano Trinità, ed in moltissimi altri film. Andiamo avanti. Ad ogni costo, regia di Giuliano Montaldo. Da uomo a uomo, regia di Giulio Petroni. Quarto western solo del 1967. La cinevicina, regia di Marco Bellocchio, di cui abbiamo visto Ennio Morricone aveva già musicato l'esodo cinematografico, I pugni in tasca. L'Arem, regia di Marco Ferreri. Orchestra ancora diretta da Bruno Nicolai. E collaborazione, non è la prima volta che accade, ma insomma che viene particolarmente consolidata, con Bruno Battisti da Mario alla chitarra e Gatto Barrieri al sassofono. Faccia a faccia, regia di Sergio Solima, quinto western di questo anno. Arabella, regia di Mario Bolognini. E chiudiamo l'anno con Dalle Ardenne all'Inferno, la regia di Alberto Le Martino. Ancora co-firmata Ennio Morricone e Bruno Nicolai. E qui scavaliamo nel 1968. Escalation, con la regia di Roberto Faenza. Grazie Zii, regia di Salvatore Sampieri, film che verrà ricordato per una delle locandine più brutte probabilmente della storia del cinema italiano. Comandamenti per un gangster, regia di Alfio Caltabiano. I cannoni di San Sebastian. Ecco, qui un'altra collaborazione con un regista internazionale, Henri Verneuil, altro western. E per tetto Un cielo di stelle, ancora con la regia di Giulio Petroni, altro western. Poi abbiamo un documentario, con la regia di Pierpaolo Pasolini, appunti per un film sull'India. Scusi, facciamo l'amore, con la regia di Vittorio Caprioli. E ancora Pierpaolo Pasolini, col film Teorema, film su cui ci soffremiamo un attimo. Allora, il film ebbe degli enormi, enormi problemi con la censura. C'era, come dire, un insindacabile giudizio sul fatto che un film potesse o non potesse uscire nelle sale. Quindi, in questo caso, la cosa non si imitava eventualmente a un visto censura o a un avvertimento, appunto, che il film era vietato ai minori di una certa età. Ma si finiva con un procedimento penale. Ci fu, infatti, un procedimento per oscenità. Il pubblico ministero chiede sia per il regista che per il produttore una reclusione di sei mesi e la distruzione dell'opera. Anche se ci pensate oggi, è una cosa che ci sembra veramente appartenente a un mondo lontano. Alla fine, comunque, i due verranno assolti. L'opera non verrà distrutta. Galileo, regia di Liliana Cavani. Partner, regia di Bernardo Bertolucci. Ruba il prossimo tuo, regia di Francesco Maselli. Cioè, vedete come passiamo veramente... È incredibile. Io, più che la quantità di questo economico sonora, la trovo veramente strabiliante. La facilità, Gugliano e Morricone, passava tra generi così diversi. Il Grande Silenzio, ennesimo western ed ennesimo regia di Sergio Corbucci. Che è un film interessante, anche perché Quentin Tarantino ha sempre detto che è il film su cui ha fondato il suo The Eightful Eight. Roma come Chicago, regia di Alberto De Martino. Un tranquillo posto di campagna, regia di Elio Petri, con cui Morricone avrà una lunga e fortunatissima collaborazione. Il Mercenario, ancora di Sergio Corbucci. Ancora con la sonora scritta da Ennio Morricone, affiancato da Bruno Nicolai, che dividerà appunto i credits. E tra l'altro, uno dei temi del film sarà utilizzato ancora da Quentin Tarantino in Kill Bill. Quindi come vedete, ma lui non l'ha mai nascosto, Tarantino deve veramente molto al cinema italiano. Diabolic, regia di Mario Bava, forse il primo adattamento cinematografico, almeno per quanto sia mia conoscenza. Froiline Doctor, regia di Alberto Lattuada. Un bellissimo novembre, regia di Mauro Bolognini. E fino a qui abbiamo visto le 33 colonne sonore scritte tra il 1967 e il 1968. Ora chiudiamo con l'ultima e sicuramente, se non la più bella, sicuramente la più importante, la più famosa. C'era una volta l'West. C'era una volta l'ultima e sicuramente la più famosa. C'era una volta l'ultima e sicuramente la più famosa. Avete visto alcune immagini nel film e guardate invece che bella questa foto scattata durante un momento di pausa sul set. Allora, tutti i film western, essendo ovviamente i film d'avventura, hanno ovviamente un tema principale che è un tema d'avventura, un tema epico. Questo perché raramente c'è un tema d'amore nel film western, perché fondamentalmente l'amore non è contemplato nella tipologia. Sì, può esserci una storia d'amore che viene raccontata e quindi questa storia d'amore può essere associata a un tema d'amore, ma insomma sicuramente nella maggior parte dei casi non è l'evento principale nella trama di un film western, sicuramente. La particolarità di questa colonne sonore è che invece il tema che abbiamo ascoltato è un tema alla fin fine veramente romantico. non è il tema... c'è anche naturalmente in altri punti la parte più epica, più avventurosa, ma se pensate al buono e al butto il cattivo, per un pugno di dollari, insomma hanno tipologia diversa, basata su un tema forte, avventuroso e epico, dove sentiamo i cavalli che trottano. Quindi invece sentiamo una bellissima, una bellissima e dolcissima melodia che ci racconta non tanto, come dire, l'avventura in sé, ma i sentimenti dei protagonisti. E' quindi uno dei rari casi, in un western almeno, in cui la musica non racconta l'epopea del far west tramite l'azione, ma tramite le emozioni. Bene naviganti, vi lascio in descrizione il link delle due puntate che abbiamo fatto su Ennio Morricone, riferite agli anni precedenti, e noi ci vediamo alla prossima, non mancate, vi aspetto.